Ti ho solo chiesto se era dietetica! Io entro in scena qui. Scusa, chiedendole se era dietetica, la presa è come se tu volessi insinuare che secondo te è grassa. Prendi una rosa rossa, una coca normale e dille che lei è tutto ciò che non sapevi di volere. Se hai problemi, fammi un fischio. Da Columbia Pictures. Hai sentito parlare di un certo dottor Rimarchio? È un mito. So serio. Giura su Dio. Dicono che lei è un tizio che aiuta la gente come me a rimorchiare le donne. Nessuno è perfetto. Ma c'è un uomo. Mi chiamo Alex Hitchens, ma chiama Michi. Che vi fa andare molto vicini alla perfezione. Aspetti, le do il mio numero. Ha una penna? Sì, certo, ce l'ho. Lui vi insegna le mosse giuste. Comiti a 20 centimetri dal corpo, angolo di 90 gradi. Se vedi qualcuno che conosci, non voglio niente del genere. E neanche questo. Ehi, ma è proprio questo che devo imparare. Non rifarlo mai. Per nessun motivo. Ma l'uomo che ha una risposta per tutto. Quando sto con lei non riesco a farne una giusta. Io la vedo in modo diverso nella mia mente. Ha parecchie domande da fare. È un'idea mia o qui c'è qualcosa di irritato? Credo che lei abbia qualche allergia. Will Smith. Ehi, non è niente di grave. Hitchell. Lui sì che capisce le donne. Otto donne su dieci credono che col primo bacio si capisca tutto quanto c'è da capire. Il segreto è arrivare fino al 90% e fermarsi. Fammi vedere il miracolo. Fammi vedere il miracolo. Ma che cavolo fai? Ti faccio vedere il miracolo. No, io ho detto tu fai il 90% e io l'altro 10. Non devi arrivare al 100%. Brutto assatanato che non sei altro. No, io ho detto questo.